Buongiorno cari amici, la notizia non è questa ma a caso Epstein legali principe Andrea accettano notifica causa in usa. Come vedete Mediaset sabato 25 settembre ore 7.10 del mattino. Quindi si ritorna a parlare del coinvolgimento del principe Andrea nel caso Epstein, sono tutte cose di cui si parla poco ma molto importante. Naturalmente principe Andrea vuol dire corona inglese, famiglia reale inglese. Gli avvocati del principe Andrea hanno accettato che gli siano stati notificati eccetera eccetera gli addebiti per così dire in usa. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere like se vi piacciono i contenuti proposti e tra poco torniamo ancora a fare una velocissima videata prima di chiudere il video. Eccola qua, grazie ancora dell'attenzione.